Ma che bontà questo antipasto con cotechino! È perfetto da servire durante tutte le feste natalizie. Fate cuocere le patate per 40 minuti. Lessate anche le lenticchie. Versate in una padella uno spicchio d'aglio, le lenticchie e due foglie di alloro. Regolate di sale e fate insaporire per 10 minuti. Eliminate poi lo spicchio d'aglio e le foglie di alloro. Quando le patate saranno pronte, versate in una padella il burro e fatelo sciogliere. Schiacciate poi le patate, regolate di sale, aggiungete della noce moscata e mescolate molto bene. Mettete sul fuoco, aggiungete il latte poco alla volta, mescolate bene in modo da formare un bel purè cremoso. Ora che tutti gli ingredienti sono pronti, possiamo iniziare a preparare i bicchierini. Fate uno strato di purè, aggiungete delle lenticchie e tagliate pezzettini la fetta di cotechino. Mettetela sopra le lenticchie e decorate con un rametto di rosmarino. Facile, bello da vedere e perfetto per tutte le feste natalizie. E se l'ho fatto io, lo puoi fare anche tu.